Le luci sono curate da Kiko E. La voce è Franchino. Mucha cosa, mucha cosa, sì. L'animazione è Alessandra, Firenze, Max, Firenze, Slagiana, Arezzo e tutti voi, voi siete l'animazione dell'imperiale, siete voi, siete voi, siete meravigliosi. Ciccio, Firenze, famiglia imperiale, anche se non lo vediamo troppe volte. La console è curata dal piccolo grande uomo, guardatelo, è piccolo, è velenoso. Andrea, come si chiama? Dice l'ora legale, eccola, oggi è l'ora legale, non c'è niente di legale, non c'è niente di orario. All'imperiale, buttatevi all'orologio perché non esiste legale, non esiste niente. L'imperiale è music, music, music. L'imperiale è trasgressione, vuol dire amarsi, vuol dire facciamo l'amore, facciamo l'amore. E' imperiale. Questo è imperiale. Facciamo l'amore. c'è niente di acerista. Dette welcome. Ah, Milano, Milano. Benvenuti ai ragazzi di Milano. Andrea, fa l'impazzire, mi ha detto cosa ti faccio. Facciate. Fai vedere com'è la sensualità. Temenità, cosa vuol dire essere femmina. lui è ricchi l'erroa buonasera e benvenuti all'imperiale oggi è il primo giorno di estate cambia l'ora cambia la la musica cambia la vecchina cosa cambia tutto come facciamo ora Sì, no, dai, no, no, dai Ora l'imperiale comincerà ad essere imperiale Trascensione Passione Vecina Eccola la bambola Andrea Genita E' stato imperiale E' imperiale Volevo dire, è imperiale Solero Vuoi no Vero Vero Volero Sì E' vero 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 Volevo fare un caro saluto ad Alessandrino, paviglia imperiale, e un bacio e un caro abbraccio a Roberto Pannocchia, il papà del mezzanotte e mezzogiorno, e Claudia. Grazie per la visione!